Ciao a tutti e benvenuti a questo mio nuovo video. Questo video è brevissimo, ma l'ho voluto fare perché volevo farvi vedere cosa ho realizzato nuovamente con i Fisher Tip. Non so se vi ricordate del video che ho fatto di Fisher Tip i mattoncini colorati che usa mio figlio per giocare e l'altro giorno giocando con mio figlio mi è venuto in mente una cosa bellissima per il battesimo di Riccardo. E ho realizzato una cosa molto carina, però volevo farvela vedere e volevo anche un vostro giudizio, quindi vi lascio il video. Questo è quello che sono a lateralizzare per il battesimo di Riccardo. Una cicogna con la R di Riccardo. Questa qua è una R, Walter dice che non si capisce che è una R, ma per me sì, insomma, mi è venuta così comunque. Con la R di Riccardo e poi sotto ho fatto una base sempre azzurra con i nomi della madrina e del padrino. Quindi il padrino Luca, ok, e la madrina Alessia Saperale, ho fatto Ale, sono da un troppo lungo, quindi Ale. Io ho pensato di fare questa cosa qua perché è una cosa originale. Volevo metterla sopra al loro regalo, insomma, che gli farò. Adesso non lo so, non l'ho ancora acquistato comunque. Perché è una cosa, penso sia una cosa originale e che gli rimarrà, come ricordo, di questo battesimo. e in più comunque è un pezzo unico, insomma, realizzato con le mie mani, l'ho fatto con la mia fantasia, insomma, mi sono messa e ho fatto questa cosa qua. Io ho voluto farvela vedere perché mi piacerebbe comunque che voi diate la vostra opinione. Quindi se vi va magari lasciate un commento, così mi dite se vi piace, se comunque potrebbe piacere a loro e se sono stata abbastanza originale. Io mi dovrei pubblicarlo a sto video, però non so, perché poi magari loro lo vedranno. Però adesso ci penso, poi vediamo se lo pubblico adesso o magari più avanti. Per adesso vi saluto e vi aspetto alla prossima. Ciao!